L'edificio della pescheria Nerozzi. Di insolita forma esagonale a struttura Liberty che richiama le antiche rotonde presenti un tempo sul lungomare. Della Versilia, l'edificio diviene da prima utilizzato come studio di opere scultoree, poi fioraio e successivamente rimessaggio per generi alimentari del mercato ortofrutticolo ospitato, nella diacente piazza. Intorno al 1970 Bruno Nerozzi e sua moglie Liliana ne divengono i proprietari trasferendovi. La loro attività ittica.